Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! Il segno fatto a mano ed è un gioco particolare perché probabilmente dalle immagini non rende, guardando su Steam non si capisce, c'è un multigiocatore dove è possibile giocare da 2 a 4 giocatori, quindi sfidando i nostri amici e pian piano si vanno a sbloccare anche tutte le varie cose tipo il profilo che ci consente di sbloccare andando avanti nuovi incantesimi che si sbloccano andando avanti con la storia oppure la forma, quindi la possibilità di andare avanti. a modificare spendendo queste pietre viola le nostre abilità, insomma io posso andare qui ed aumentare i danni del raggio, quindi aumentando spendendo 50 o un 10% in più e lo compro, poi mi costa 100 e posso aumentare ulteriormente, comunque ho aumentato, sono al 3% dallo sbloccare tutti. Posso parlare con questo tizio ma andiamo a giocare perché il gioco è molto particolare perché il gioco è diviso tra la modalità narrazione che dovremmo finire diviso in due parti e la modalità sopravvivenza dove dovremo sopravvivere il più a lungo possibile. qua vedete che ci sono tempio e cielo, qua invece c'è la parte 1 e la parte 2 divisa in 42 parti, ma il tempio e il cielo sono le modalità che al momento ho scoperto dovrebbero essercene anche altre, qua nella modalità narrazione. Cioè in pratica se io vado avanti, vengo teletrasportato nel mondo e c'è questa storia dove le ombre attaccano e noi dobbiamo difenderci, in questo caso io sono già nel cielo perché sono rimasto per i primi 2-3 livelli a terra e in sintesi lo scopo è quello di difendermi. Due sono i tasti da utilizzare che è il tasto sinistro del mouse e il tasto destro o la barra spazzatrice in sostituzione del tasto destro e praticamente il tasto destro corrisponde all'incantesimo, in questo caso ho questo incantesimo qui, ho potenziato la potenza del raggio un attimo fa che avete visto quindi faccio il 10% in più di danni, io cerco di difendermi, in alto a sinistra vedete la mia vita e soprattutto il mana che è quel pallino viola che poi ricompare. Posso usare anche questo teleport che ho usato un attimo fa, tra l'altro non so se sono morto o cosa, no, continua e ora la seconda modalità perché c'è la fase, uno che è completata, continuo e si scende a terra e in questo caso diventa, lo chiamo un tower defense ma non è vero perché dobbiamo sopravvivere dall'arrivo delle varie ombre, c'è anche un ricco bestiario perché man mano scopriamo dei mostri nuovi, delle ombre nuove, queste ci vengono segnalate alla fine del livello e possiamo andare a leggere la lore a riguardo a quelle. Prendendo invece queste pietre che troviamo fluttuanti e sono pietre di vari colori, andando a distrauggerle otteniamo svariati bonus, in primis la vita che andiamo a rigenerare, se no non potremmo. I disegni sono fatti veramente bene per quanto sia, ok devo sbrigarmi e fare questa roba qui e ho completato la fase. Vedete ho trovato una pagina, posso andare a leggerla, ogni mattina il mio maestro vuole che preghiamo insieme, la preghiera è sempre la stessa, calariana è la morte, pesa l'anima infida, se rimane dolore, bestia animica grida. Pagina 2, ho trovato anche questo, va bene sì queste sono tutte le pagine che abbiamo trovato e si può andare avanti e si va alla fase 5. La storia continua, viene narrata, non fino a dimostrazione dell'esistenza, devo ammettere, ma quello è lo scopo di tanto coraggio quando non rimane niente da salvare. E va avanti, giocabile anche con il pad, questa sembra quasi una boss fight perché sembrano delle illusioni questi. Finché mi stanno così lontani non... ma già, devo organizzarmi. Col mouse è giocabilissimo comunque, vedete che intanto io sto facendo del danno, cioè gli sto riempiendo questa barra per poi andare a eliminarli. Ok, fatto anche questo. Non è eccessivamente difficile al momento, uccidere i nativi e devastare l'isola è stato incredibilmente facile. Se intendi offrirmi una sfida degna di questo nome forse potremmo divertirci. Praticamente le ombre hanno assaltato quest'isola con questa giungla e noi dobbiamo difenderla. E qui stiamo continuando la nostra fase narrativa. Alla fine di ogni livello possiamo scegliere se proseguire per il livello successivo o tornare alla home, quindi tornare alla base iniziale, dove possiamo andare a potenziarci come abbiamo fatto un attimo fa. E' disegnato benissimo, c'è poco da dire. Si compensa magari la poca varietà del gameplay con una lore di tutto rispetto e soprattutto una grafica disegnata a mano interessante. Ho sbloccato un nuovo incantesimo, un soffio di bufera. Lancia un raggio di gelo che congela tutti i mostri. Perfetto, vedete che mi fa leggere la lore. In questo caso io adesso ho completato una fase. Ho preso un po' di frammenti, vedete qua posso fare continuo, posso vedere il profilo, non posso tornare indietro però, un momento. No, mi sa che mi fa tornare indietro infatti. E torniamo sempre qua. Eccoti di nuovo, ciò significa che hai purificato il primo santuario. Fuori uno, ne mancano quattro. La prossima sfida ci aspetta. Prendete tutto il tempo per esaminare l'inventario, gli incantesimi, le abilità per scoprire di più sull'isola e sui suoi abitanti. Infatti qua abbiamo la possibilità di vedere nel manoscritto il bestiario con tutte le bestie che abbiamo scoperto finora. Con i relativi disegni, animazioni e descrizioni. Possiamo leggere di più. Possiamo andare a vedere il diario di Ical e quindi vedere tutte le pagine che abbiamo trovato andando a leggerle. Infatti c'è il tastino qua in basso a sinistra, legge di più. E possiamo leggerle. Oppure possiamo andare a vedere le sfide, le sfide narrative. Abbiamo completato un po'. Completa questo, quello, quell'altro. Ci danno delle ricompense in termini di cristalli. E le sfide di raccolta, che non ho ancora fatto. Poi, il profilo è quello che abbiamo visto prima. Dove possiamo andare adesso a montare l'equipaggio, scusate, il raggio di gelo invece della folata di vento che usavo prima. Quindi io adesso, che è la folata di vento, quella che faceva questo anello qua intorno a questo cerchio che spingeva tutti. Adesso uso il gelo. Perfetto, posso montare questo. Infatti ho montato quello. Posso andare a potenziare. In questo caso, vediamo. Aumentare le statistiche. Danni a raggio 10. Lo potenzio ancora. Da, gli do ancora più potenza. Adesso costerà il doppio. 150, però non così proporzionale. Abbiamo recupero mana più 10%. Mi interessa molto. Questo perché vorrei poterlo usare più spesso. Anzi, lo uso ancora. Quindi abbiamo un più 20% in totale al mana. E quindi qua parliamo. Conosci qualche bella barzelletta al mio repertorio delimitato. Ok, possiamo andare giocatore singolo e avviamo la parte numero 7. Ve ne faccio vedere ancora questa, giusto per testare il nuovo incantesimo. Cambiano le ambientazioni fondali. La meccanica resta più o meno la stessa. Incantatori. Ok, intanto quello che facciamo è ancora uguale. Però posso usare questo raggio di gelo qua. Bello. Non ci muoviamo qua. Non possiamo muoverci con WSD. Lo possiamo fare solo quando possiamo ascendere al... Nei cieli e combattere muovendoci con WSD. Fa un bel danno questo, devo dire. Anche se forse... Diciamo, non siamo in posizione sopraelevata come abbiamo visto prima. Quindi... Come nella giungla. E quindi qui attaccano subito. Non devono scalare, diciamo, il... L'altopiano dove ci trovavamo prima. Però un momento ce la sto facendo abbastanza bene. Poi... Io dico, ci si diverte. Tanta gente si diverte tantissimo giocando a Vampire Survivor, come si chiama. Ha senso anche questo, perché comunque ci invoglia a migliorarci e sopravvivere a queste ondate qua. Questi proiettili che ci arrivano... Ok, ce l'ho fatta al pelo. Incantatori. Vedete che ho scoperto un altro mostro. Gli incantatori. Ho preso altri frammenti. Posso continuare o tornare alla Roma. In questo caso, probabilmente la fase dopo mi manderà nei cieli, come abbiamo visto, ad inizio il gameplay. Io non voglio dilungarmi troppo, perché il gioco comunque è questo. Ha i suoi pregi, i suoi difetti. Diciamo, può non piacere a tutti per il tipo di gameplay. Può piacere, chi ama magari a rilassarsi un pochino, rispingendo mostri. E soprattutto godendosi la lore e godendosi anche i disegni fatti a mano. Non costa tantissimo, perché siamo sotto i 9 euro. Quindi attendo impaziente il vostro parere qua sotto nei commenti. Io vi saluto, vi ringrazio e vi rimando a un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao.